Alicia Tavella, direttrice reggente del servizio farmaceutico del Compressorio di Bolzano. Ma sostanzialmente perché con la vaccinazione di richiamo recupero quello che il vaccino ha perso nel tempo in termini di risposta anticorpale e pare proprio che questa booster sia in grado di innescare la maggior risposta anticorpale. Perché dagli studi si evidenzia per la terza dose la massima efficacia nell'utilizzo di un vaccino a mRNA, sempre in termini di risposta anticorpale e da qui quindi derivano le risposte degli antiregolatori. Allora, innanzitutto una precisazione. La letteratura internazionale sponsorizza la strategia di vaccinazione eterologa. Che cos'è la vaccinazione eterologa? È il fare il richiamo con un vaccino differente da quello utilizzato per il ciclo primario. Ad esempio, se io ho fatto un ciclo primario con Pfizer, per vaccinazione eterologa significa vaccinazione con Moderna. Perché questo? Perché si ha una risposta immunitaria molto importante. E perché la nostra azienda ha deciso di fare così? Perché nella vaccinazione di massa è stato utilizzato moltissimo il vaccino Pfizer. Per questo motivo la nostra azienda ha deciso di offrire a tutti Moderna come dose booster.